limito l'offerta come la limito la limito con una data definita quindi ad esempio dico questo prodotto l'ho fatto ad esempio con col video efficace no dicevo fino al 31 12 il video efficace al posto di 1500 euro visto che era una fase di lancio costava 750 quindi metto una data e dico che fino a quella data il video è scontato poi dopo cosa succede che a gennaio ho messo un'altra offerta e ho detto ok non è più 750 ora il video costa mille e costerà mille fino a tipo non so il 20 di febbraio mi sembra il 15 di febbraio quindi faccio delle offerte che fanno in modo che gli utenti poi siano incentivati a comprare importante non è che poi dopo che l'offerta scade la faccio ripartire uguale perché deve essere anche credibile no quindi la cosa importante è fare in modo che ci siano sempre delle offerte però che effettivamente siano coerenti quindi il prezzo vada a salire nel tempo data variabile cosa significa arrivo su un sito il sito vi mette un cookie e da quel momento partono cinque ore per comprare quando il cookie scade cosa succede che io non posso più comprare il prezzo scontato comprare il prezzo pieno questo però si può fare con una cosa interessante cioè si può fare con gli utenti di ritorno perché perché siccome io se poi mi collego ad un altro dispositivo rivedo l'offerta che riparte è una cosa un po farlocca perché comunque uno che vede il link e clicca avrà sempre cinque ore indipendentemente da quanto clicca quindi cosa si può fare si può fare una cosa così che se non è carina fai atterrare l'utente su una pagina che ha un'offerta definita in termini di tempo quindi mettiamo il video efficace no il video efficace da ottobre c'era scritto che al 31 12 sarebbe finita l'offerta e quindi non potevi prendere la 750 ma potevi prenderlo a tipo non dovevi prendere la 1500 poti prenderla 750 ora cosa succedeva che se io avrei potuto far arrivare gli utenti in quella pagina gli utenti non accettavano con l'offerta e andavano via però avevano un cookie e magari venivano tracciati per il remarketing quando tornavano su facebook a fare altre cose cominciavano a vedere una pubblicità che poteva dire due cose poteva dire o attenzione guarda che il 31 12 scade l'offerta e il video costerà il doppio quindi se sei ancora interessato ti consiglio di approfittarne questo è un tipo di cosa che si può fare ma un'altra cosa che si può fare è sei interessato al video solo per te oggi c'è questa offerta dove il posto di costare 750 costa 500 a quel punto cosa fai fai un'offerta e quando l'utente torna sul sito il sito rileva il fatto che ha un cookie che è servito solo a quello a fare il fatto a sapere il fatto che lui c'era già stato e solo con l'utente fa vedere questa offerta speciale che non è a 750 ma 500 ora lascia perdere il prezzo pensa solo al 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 meccanismo no quando un utente dice a pino guarda c'è questa roba tu vai sul sito che a 7 no perché quella pubblicità la vede solo lui con il remarketing e magari può essere inoltrato o a quella pagina o un'altra ma potrebbe anche essere inoltato solo a quella pagina ed essere gestita la cosa attraverso il cookie questo in modo che così quando lui passerà il link a un suo amico lo stesso link il suo amico non avrà il cookie di ritorno e di conseguenza vedrà l'offerta base quella senza lo sconto di altri 250 euro questa è una strategia avanzata di remarketing che poi andrà verrà spiegata bene diciamo in quella che è l'evoluzione del cioè non nell'evoluzione ma il continuo del modello di oggi vinci tu che sarà incentrato su quello che è il traffico e quindi Grazie a tutti.